Oh, veloce, è un po' tardi, però oggi ho avuto un po' da fare. Volevo comunque dire due cose sulle seconda e terza giornate dei test di Dovizioso con l'Aprilia. Quindi, importante capire che Dovizioso non ha spinto, non ha spinto come si pensava barra sperava che avesse spinto. Ora, Aprilia non è mai stata brava a fare nascondere le informazioni, le informazioni o le dà o non le dà. Ha un ufficio stampa tradizionale che non fa fumi, spettacoli, eccetera, quindi le cose o le dice o non le dice. Questa volta non le ha dette, qualcosa è venuto fuori, ma di traverso, però non certo per un artificio di marketing e comunicazione voluto dalla casa, ok? Dovizioso non ha potuto o non ha voluto spingere nei due giorni successivi. È venuto fuori che in realtà le misure della moto non erano proprio quelle giuste, ma un'altra cosa è venuta fuori che si dice che lui si è andato annuale a fare delle prove di ergonomia prima di Cataruno. Quindi, da un lato aveva fatto le prove prima, dall'altro qualcosa non tornava, insomma, le pedane erano lontane, gambe corte, moto lunga, insomma, va bene. Nella fine il terzo giorno Dovizioso ha spinto in un modo che non è spingere. Le dichiarazioni non si è sbilanciato, ha detto che la moto non gli dispiace, ha detto che la moto sembra migliore di quello che ha visto lui in pista e di quello che si aspettava, ha detto che frena bene e tutto il resto. Che ha un'erogazione morbida, quasi elettrica sotto, che è un po' povera sopra, ma ovviamente parliamo di un uomo che scende dalla Ducati e che quindi anche un missile forse sembrerebbe povero agli alti paragonato ad una Ducati. Insomma, gli è piaciuta la squadra, l'ambiente, la situazione, quindi è un nì, nel senso che anche i test al Mugello, che io per primo, sbagliando, consideravo già previsti, programmati e scontati, in realtà non lo erano. E quindi al Mugello ci andrà e molto probabilmente sarà lì che potrà fare le sue prove di apertura nella pista giusta, con la moto giusta e anche il feeling giusto, magari pensandoci un po' a casa, leggendo un po' i dati, eccetera. Quindi questa cosa fa molto, molto, molto ben sperare. Quindi in realtà, dove ci sono, non è andato male. Ah, a proposito, i tempi, i tempi, si mugugna, si bisbiglia di un 1,38 e mezzo, 1,38 e mezzo, che però lascia dei dubbi perché le condizioni climatiche della pista cambiano, le situazioni cambiano, e quindi sappiamo benissimo che, come posso dire, quella lì è una pista che da un giorno all'altro dà sensazioni, risultati e sorpresine, anche eclatanti, anche a piloti che il giorno prima avevano fatto molto bene o molto male, capitano situazioni completamente diverse. Quindi, secondo me, 50-50 che Dovizioso vada in Aprilia, sembra una carta buttata via da parte sua, e io lo penso, ma bisogna anche vedere se Dovizioso ha voglia di fare una stagione subito e poi legarsi contratualmente ad una casa che, per farlo salire su una moto, gli chiederà almeno un biennale, oppure vorrà finire l'anno aspetticchiando e poi cercando di magari salire su una moto che lo intriga di più, che ne so, la KTM di Petrucci potrebbe essere una, visto che Petrucci ha 1 più 1 con l'opzione di rinnovo. Bisogna vedere. Per me, e continuo a dirlo, Dovizioso deve salire sull'Aprilia e lo deve fare adesso perché, paradossalmente, questo è un campionato per lui di svolta. Io, forse in lui, farei gli ultimi 2-3 anni a Bombazza di carriera, chiuderei la carriera su una moto italiana, vincerei anche delle gare e rimarrei nei cuori degli italiani con la moto nera. Per non parlare di tutto il discorso che ci siamo detti sul know-how che Dovizioso può portare, eccetera, 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 ma quello è un altro video e lo trovate insieme agli altri video che ho fatto. Ok? Ciao a tutti, vado a dormire, vado a dormire, guarda che faccia che ho, vado a dormire. C'ho i peli che mi crescono da tutte le parti. Ciao da Mr. Helmet. Ah, iscrivetevi al canale, si dice così, io non lo dico mai, iscrivetevi al canale. Iscrivetevi al canale! Ah, iscrivetevi al canale! Grazie a tutti.